Oggi celebriamo la quinta giornata mondiale dei poveri, nata come frutto del Giubileo della Misericordia. Il tema di quest'anno sono le parole di Gesù. I poveri li avete sempre con voi. Ed è vero, eh? L'umanità però ne dice, l'umanità si sviluppa, ma i poveri sono sempre con noi, sempre ce ne sono. E in loro è presente Cristo, nel povero è presente Cristo.